Quando si accende l'amore è una pazzia temporanea, l'amore scoppia come un terremoto e in seguito si placa e quando si è placato bisogna prendere una decisione, bisogna riuscire a capire se le nostre radici sono così inestricabilmente intrecciate che è inconcepibile il solo pensiero di separarle, perché questo è, l'amore è questo, l'amore non è turbamento, non è eccitazione, non è il desiderio di accoppiarsi ogni istante della giornata, non è restare sveglia la notte immaginando che lui sia lì a baciare ogni parte del tuo corpo, no, non arrossire, ti sto dicendo delle verità, questo è semplicemente essere innamorati e chiunque può facilmente convincersi di esserlo, l'amore invece è quello che resta del fuoco quando l'innamoramento si è consumato, non sembra una cosa molto eccitante, ma lo è.